Una sentenza allucinante. Il diretto interessato non commenta nel merito le motivazioni della Cassazione, ma ribadisce il concetto di una condanna politica. E avverte, se qualcuno pensasse di eliminare il leader del primo partito italiano sulla base di una sentenza allucinante fondata sul nulla, ci ritroveremo in presenza di una ferita profonda e inaccettabile per la democrazia. Chi entra nel merito sono i suoi legali, Coppi, Ghedini e Longo, che parlano di motivazione inesistente e di una decisione del tutto fuorviante e totalmente sconnessa dalla realtà dei fatti. Nella fretta di voler confermare la sentenza emessa a Milano, scrivono i tre avvocati, la Corte di Cassazione non ha, con ogni evidenza, tenuto conto alcuno delle reali risultanze probatorie. Il PDL compatto da Cicchito a Sant'Anché contesta le motivazioni, parla di fretta sospetta da parte della Cassazione, di teorema squisitamente politico e teme soprattutto le conseguenze nella partita già difficile della decadenza di Berlusconi da senatore. Il responsabile giustizia, PD Danilo Leva, infatti, ritiene con oggi chiusa la pratica Berlusconi. Le motivazioni della Suprema Corte sono chiarissime e non lasciano spazio ad alcuna libera interpretazione. Ora la giunta per l'immunità del Senato sarà chiamata ad applicare la legge e non sono previsti tempi supplementari. Non c'è nessuna parentela tra le due cose, reagisce dal PDL Francesco Paolo Sisto, il compito della giunta è verificare l'applicabilità della legge Severino. Perché il filo al quale è appeso il leader PDL, come dimostrano i sei pareri di altrettanti giuristi depositati ieri nella giunta elezioni del Senato, è il tentativo di sollevare la questione di costituzionalità della legge, che prevede la decadenza del parlamentare che ha una condanna definitiva, a più di due anni, il caso di Berlusconi. Un tentativo che finora si è schiantato sul muro eretto dal PD in difesa della legalità, nonostante l'apertura di un esponente di primo piano come Luciano Violante. Per il PDL l'importante è prendere tempo e evitare che la giunta voti troppo presto la decadenza. La giunta non è un'ordalia, deciderà in assoluta serenità, i diritti della difesa saranno rispettati, assicura il segretario PD Epifani, ma è necessario che il centrodestra si decidra tra le esigenze del paese e quelle del suo leader. E poi la legge Severino è sicuramente costituzionale. Chi non ha dubbi è il Movimento 5 Stelle, no a qualsiasi dilazione, dice il senatore Gianrusso, componente della giunta elezioni. Le motivazioni della Cassazione mettono in una situazione gravissima coloro che chiedevano atti di clemenza.